Ecco, oggi in anteprima vediamo questa mostra dedicata al mondo della radio. Nel mondo della radio, al mondo della comunicazione, è quel mondo che praticamente con questo sviluppo ha cambiato proprio anche il mondo dell'umanità intera. È dedicata a Marconi ovviamente perché nel 1895 Marconi praticamente inventa la radio. Diciamo che tutti i componenti della radio grossomodo erano stati inventati, però lui riesce ad assemblarli e aggiunge un particolare che è l'antenna fondamentale. Ecco la mostra appunto è dedicata a Marconi ed è successiva a quella di Leonardo da Vinci, due grandi uomini di scienza e io dico sempre la scienza e la cultura è un po' l'ambiente della nostra evoluzione. Far conoscere queste cose, specialmente ai giovani, è fondamentale. È fondamentale perché perdere i legami con quello che è stato è, come dire, è negativo perché noi siamo il prodotto, siamo il frutto del nostro passato. Quindi oggi siamo arrivati a cellulari, ma prima di arrivare a questo c'è tutto questo passaggio. Ecco in mostra ci sono tanti pezzi davvero importanti alle sue spalle, ci sono degli esemplari legati al mondo bellico, ma poi invece il percorso è ben più ampio. Sì, sì, certo, abbiamo la parte commerciale, la parte iniziale delle radio, sono 100 pezzi che sono stati messi a disposizione da due collezionisti in particolare, Ernesto Salla di Albano Sant'Alessandro e Valangiani, due amici che mi hanno fornito, hanno dato questa opportunità, a questi è aggiunta un po' la mia collezione, sia di Radiomatore che di altri pezzi commerciali. Io devo ringraziare questi amici che ci hanno fornito questa grande opportunità perché è di altissimo livello e veramente non credo ci sia in tutta la Bergamasca un'opportunità di questo tipo e quindi invito quanti ascoltano la trasmissione a venire perché veramente vedranno qualcosa di eccezionale. Ringrazio la mia amministrazione perché ovviamente in queste cose bisogna crederci e soprattutto ringrazio il mio collaboratore consigliere Luca Savoldelli che qui ci ha messo l'anima per cui voglio ricordare questo passaggio e ovviamente anche tutti i miei collaboratori, il vice sindaco di Pisangelo e Eugenio e l'assessore alla cultura, la Maestrini, Enrica, l'ingegnere Maestrini. Per cui tutto questo è il frutto di una collaborazione, di un percorso, di un intendimento sul quale ovviamente bisogna impegnarsi ma soprattutto bisogna credere in queste cose. Ricordiamo quando sarà inaugurata? Viene inaugurata domenica, inaugurata diciamo aperta al pubblico per l'inaugurazione noi come museo e come mostri l'abbiamo già fatta in precedenza quindi è un'apertura al pubblico sarà domenica mattina alle 11 appena dopo la messa quindi approfittiamo dell'occasione che escono dalla Santa Messa e poi domenica sempre 2 agosto dalle 14 alle 18 e per tutte le domeniche successive fino al 25 ottobre sarà aperta al pubblico quindi ogni domenica dalle 14 alle 18 fino al 25 ottobre. Aggiungere 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 Allar